Sindaco, finalmente si torna a parlare di housing sociale. Dopo tanti anni il progetto che riguarda Via Longo e tutti quegli edifici che hanno iniziato un loro iter, non solo di trasferimento degli inquilini, ma insomma la cosa più importante è abbattere quegli edifici per valorizzare quella zona di Teramo. A che punto siamo? Io direi che la cosa più importante è riqualificare un territorio, riqualificare una zona alle porte di Teramo. C'è questo progetto delle fondazioni di cassa di posti e prestiti, un progetto che ha l'obiettivo di riqualificare e di valorizzare Via Longo. È un progetto difficile, abbiamo impiegato molti anni appunto per questo perché abbiamo avuto rispetto di chi vive lì dentro e abbiamo attivato un piano di mobilità che è stato condiviso con gli stessi residenti. Siamo nelle fasi conclusive, mancano gli aspetti ultimi e io ritengo che entro la fine dell'anno questi aspetti procedurali si potranno concludere e quindi finalmente si passerà alla parte operativa. Quindi questo vuol dire che se tutto andrà secondo programma già nel 2018 potrebbero essere abbattuti questi edifici? Ma sì, guardi, io credo che il 2018 è l'anno in cui il progetto potrà avere, diciamo, potrà avere la fase, potrà vedere la fase esecutiva. Ripeto, adesso alcuni aspetti procedurali, stamattina c'è stata una commissione richiesta dalle opposizioni, noi abbiamo fatto molto volentieri, abbiamo chiarito tanti aspetti. Sindaco, ma in questo momento quanti sono gli inquilini ancora residenti in quella zona? Ma guardi, abbiamo liberato già tre palazzine, ci sono le ultime due palazzine da liberare ma abbiamo un piano di mobilità già definito con ATER, quindi insomma riteniamo di rispettare i tempi che ci siamo dati. Grazie.